Saranno circa in 300 a fermarsi a Genova per il primo sciopero nazionale dei lavoratori a Amazon indetto lunedì 22 marzo. Si tratta per il 90% di dipendenti di società di trasporto che lavorano per Amazon come BS, LD e Jet Express, legati all'Hub inaugurata a settembre in Valpolcevera. Lo sciopero è stato indetto dai sindacati in seguito alla rottura delle trattative nazionali. Le sigle volevano coinvolgere l'azienda di e-commerce nella piattaforma regionale già prevista per i codieri che lavorano per BRT, SDA e GLS. In particolare contestano la mancanza di norme a tutela del lavoratore, a partire dai turni, che possono essere in ogni giorno la settimana e con orari compresi dalle 8 alle 22, fino alla gestione del lavoro, affidato ad un algoritmo che impone ritmi molto serrati e non consente alcuna flessibilità nell'ordine delle consegne. Stanno sfruttando i lavoratori perché hanno capito che quelli che sono col contratto full time la disponibilità la domenica a lavorare non gliela stanno dando. Hanno provato a creare una sorta di precarietà assumendo i lavoratori solo per due o tre giorni a settimana, così se vogliono guadagnare qualcosa per poter sostenere le famiglie li obbligano a lavorare la domenica e questo per noi è inaccettabile. Ai lavoratori non è permesso organizzare assemblee sindacali in magazzino e non hanno a disposizione servizi igienici interni alla struttura, ma bagni chimici all'esterno di essa. La responsabilità di questo è in primis della stessa Amazon che, essendo il committente, ha in capo la sicurezza dei dipendenti e gestisce l'organizzazione del lavoro. Anche i fornitori, se volessero un pochettino calare la pressione lavorativa di questi lavoratori, non lo possono neanche fare perché questi fornitori sono solamente dei prestatori di mano d'opera, sono dei prestatori di mano d'opera che non possono neanche agire su quello che è il carco di lavoro dei lavoratori. Quindi loro vengono gestiti da un algoritmo creato direttamente da Amazon che devono seguire la lettera durante l'arco della giornata.